Mezzina la passa al compagno di squadra con la Maria due contro uno con il tiro Rete Mezzina si porta in avanti fallo commesso ancora Federico Mura Federico Mura atterrato gol annullato Mura prova sfiorato il palo alla destra di Verona che nel frattempo ha subito anche un fallo con la Maria con la Maria tre lo chiudono Cipro è gol gol di Mezzina Mezzina porta Agostini la scambia con Dal Santo tiro dalla distanza di Dal Santo accorcia le distanze Dal Santo accorcia le distanze il Breganze Mura ancora atterrato Mura da Dal Santo con la Maria Dal Santo prova ancora dalla distanza e segna ancora lui Dal Santo il pareggio la finta di Clavel la lascia Savirubio che è costretto ad arrivare fino vicino alla porta di Belgiovine fallo di Mezzina treggio Colamaria finta doppia finta di Colamaria ancora un fallo Agostini a terra Savirubio ancora indietro per Mura Savirubio tiro e gol gol di Mura Mura porta a tre le reti già in avanti a ridosso dell'area del Breganze Savirubio è costretto a tornare indietro e ripartire con Colamaria tiro del Santo è grande gol gol di Colamaria pallina ancora dieci secondi per il tiro Dal Santo ci prova e a terra nel frattempo Clavel che commette il decimo fallo liberi del gioinazzo Colamaria come avevamo detto ancora fallo ai danni di Colamaria l'arbitro a due passi accorciare le distanze il Breganze Tataranni al centro Posito ancora un fallo ai danni di Mezzina ecco esce come avevamo detto che era l'unico a non essere stato sostituito vengono espulsi sia Savirubio che Tataranni